Ehi Fere! Perché stai guardando sul muro? Ehi Fere, sai che cosa dobbiamo fare oggi? Sì, l'ho capito, ma perché stai guardando sul muro? Perché si può fare sul Phantom Wedge e non lo deve sapere nessuno. E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki. E io sono Stefano, che sono GmGT5! E siamo qui con un nuovo episodio del si può fare, ovviamente, tutto a tema del mio splendido veicolo, il Phantom Wedge. Il mio veicolo! Non è tuo! Esattamente, è detto bene, è mio, perfetto. Allora, oggi vogliamo provare un sacco di cose... Non ci provare! È mancato! Ladro! Ok, vogliamo provare un sacco di cose? Vogliamo provare un sacco di cose, il si può fare però non utilizzerei i vostri commenti perché dobbiamo assolutamente registrare oggi l'episodio e ancora non è uscito l'altro perché domani non possiamo registrare. Quindi, sono tutti inventati dal vostro amato Stef che pensa sempre alle cose più malsane e strane. Voi continuate a consigliarci altre cose perché le porteremo comunque anche su quel veicolo in altri episodi. Quindi, continuate a consigliarci sempre cose nei commenti. Allora, c'è una cosa bellissima che voglio provare. Ok, dimmi, dimmi. Proprio super geniale. Lo so, lo so, però io volevo portare il nostro veicolo qua dentro. Quindi adesso, prima di tutto, il primo si può fare di oggi è si può far sponare un veicolo speciale direttamente nella zona degli aerei? Scopriamolo subito. Secondo me no, te lo dico. Veicoli, Phantom Wedge, sei troppo lontano da una strada adatta. Dannazione! Il primo che voglio provare oggi funziona così. Allora, io sono su questo aeroplanino basso, basso, basso. Andiamo su un rettilineo. Ferinichi rimane ferma e io cerco di decollare con l'aeroplano sfruttando la rampa di Ferinichi. Quindi, si può fare sarebbe può un aeroplanino decollare tramite la rampa del Phantom Wedge? Non ne ho idea. Non lo so, non lo so. Come potrebbe farmi schiantare e morire? Certo che usarlo come rampa di lancio per un aereo è un po' strano. Diciamo che non è il suo utilizzo primario, però vabbè. Che quando c'è da tirare fuori idee strane sono sempre il numero uno. Quindi, dovreste essere preparata psicologicamente a quest'oggi. Se andate in un buon punto... Dove andiamo, quindi? Eh, lì non è male, ci sono un po' troppe macchine. Eh, è quello, è solo quello, però non è malissimo. Aspetta, provo a parcheggiare. Potevi aspettare? Cioè, che fretta avevi? Quasi. No, ma neanche quasi, è stato proprio un fallimento clamoroso, punto. Aia, però guarda, il destino vuole che sono esploso e rinatto, proprio davanti a un'altra cosa che volevo provare. Ok. Il Phantom Wedge sbalza un autobus. In effetti non ci abbiamo mai provato, vediamo. Ok. Allora, aspetta che ti raggiungo, aspetta, aspetta, aspetta. Sì, ci siamo, vai, c'entrami. Mi vedi? Dove sei? Questo. Ok, che ferro. Vai, prendimi in pieno. Oh! Hai volato malissimo. Io ho avuto paura, ho detto, adesso si schiantano al massimo se ha cartoccia. Aspetta che lo riproviamo. Pronto? Anche la peggio? Ma dai, ma sono atterrato su un pompiere, poverino. Eh vabbè, io gliel'ho detto che non c'era bisogno. Tornate a casa, dai. Scusi, pompiere, mi tolgo subito. E ormai erano anche le stelline, uffa. Cioè, guarda, è incredibile. Incredibile, puoi provare ad andare lontanissimo, un attimo. Sono fatta. Vai dritta, veloce, 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 prendi velocità. Sì, ci sono, ci sono. Ti centro io, tu non cambiare direzione. Vai, 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 vai. Uuuuh, dove sei volato? Tutto ok. Sono qui, Fede. È inarrestabile, su me, Ica. Non ho trovato l'aeroplanino, ma ho trovato di meglio. Finalmente possiamo vedere una cosa che tanto tutti si chiedono. Posso acchiapparti? Ma dai, sì. Secondo me sono anche più leggera del carriero. Secondo me... Quindi per forza, per forza. No, però... Vediamo. Allora, tata, tata, tata. Concentrati, mi raccomando. Sì. Aspetta, non mi avevi acchiappato. Ti avevo preso, ti avevo preso. Sì, mi avevi preso, quindi si può fare, si può fare. Ok, allora, è solo questione di concentrarsi. Sì. Oddio, oddio. Vedevo il gancio staccato. Stiamo volando. Fede, Niki, stiamo volando. Che bella cosa. Peccato non poter sparare. Allora, adesso io ti parcheggio lì all'aeroporto e proviamo la cosa con gli aeroplani. Dopodiché io voglio provare se, acchiappata così, andando razza a terra, possiamo allo stesso sbalzare i veicoli. Ma lo spero. Inventiamo un'altra arma. No, non ha senso, perché non ha senso di esistere. Però non aveva neanche senso che riuscissi a sparare appeso al cargo bob. Quello per me ha senso. Questo no. Ok, ne ho appena spionato uno. Ok, dove? Più avanti? Lì davanti a te. Ok, ok. Vabbè, allora sto ferma qui, così lo prendi e faccio la rampa. No, mettiti proprio nella pista. Poi avrete visto probabilmente 6 minuti di video, ma noi siamo a 35, perché tutto stanno allo storto. Tanti problemi, sì. Quando vanno storti si può fare vanno storti. C'è poco da fare. Esatto, esatto. Quando va tutto male, va tutto male. Questo è in karma, perché io non ho potuto prendere il veicolo, quindi c'è un'aura di sfiga. Non metterli in mezzo altre cose. In generale, guarda. Allora. Sei pronto? Sì. Io non posso premere, ovviamente, per iniziare ad alzare. Quindi lo posso premere soltanto dopo che mi sbalza. Esploderemo in due, esploderemo in due. Ah, si esplodo solo tu, quindi va bene. Va bene, va bene. Ma qualcosa va bene. Quindi vedi, almeno non se ne esploda. Però non fa. Peccato, 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 peccato. Non lo possiamo usare solo con le macchine. Potrebbe essere strafigo. Sì, perché con le macchine fa. E infatti voglio provare con una moto, perché secondo me è un effetto ancora maggiore. E poi, e poi, e poi. Adesso proviamo appunto col Cargobob e la chiapparti e a farti andare in giro. E come ultima cosa proveremo a sbalzare il treno. Perché io questa speranza di far muovere in qualche modo il treno me la tengo sempre. Cioè, secondo me sbalza me, te lo dico. Sarà proprio l'unico caso in cui verrò sbalzata io col fanto. Lo so, però, anche solo l'1% di dubbio. Non te lo vuoi togliere quando si tratta di sbalzare un treno. Siamo dritti, Fere. Siamo dritti, Fere. No! Aspetta. Ancora un po' più dritto. Fere, siamo dritti. Ok. Quasi. Vado, dobbiamo andare velocissimi. Ma c'è il ponte, c'è il ponte. No! Ormai vado, ormai vado. Oh mio Dio, come hai fatto? No, ci sei passato. Dimmi che l'hai sbalzato. No, non ho toccato nulla. Fere! Mi hai mollato. Sei un disastro. Perché devi fare queste cose? Perché ci sono ponti ovunque in questa mappa. Eh, ma aspetti che di subpassarlo. No, no, no. Cioè, come hai fatto a non vederlo? Ce lo vedi di fronte? Vai sempre storto, va sempre storto. Fa schifo, fa schifo, fa schifo. Non mi piace. Allora, ci serve una moto. Facciamo le cose serie belle, ok? Ok. Troviamo una moto. Tu sei ancora sul veicolo o ti ho fatto esplodere? No, no, non mi hai fatto esplodere. Oh, guarda che immortale. Già, seconda cosa qui non esplodi tu ed esplodo solo io. Eh, lo so, però sto facendo uscire tanto fumo. Ok, quindi non stai bene. Esatto, mi sento un po' faticato. Un po' la febbre. Sì, quindi non è una buona cosa. Sei sabato sera. Ti conviene muoverti, ti conviene muoverti. Eh, non so dove trovarla una moto. E' quello il problema. Io vedo un po' in giro e te la cerco, però non so se la troverò. Sei pronta, Fede? Vai! Secondo me sarà stra-epico. Allora, sei in una buona strada? Più o meno, c'è un po' di traffico. Vabbè, vabbè, il traffico. Lo so saltare con la moto. Allora, stai ferma, che poi c'avevi una moto davanti a te, dannazione. Eh, adesso, però, adesso. Vado. Ma scherzi? Scusa. Me l'hai fatto... Eh, vabbè, non volevo... Prima me l'hai fatta atterrare addosso. Quella non è colpa mia, volano e basta. Eh, certo. Tentativo numero due. Vediamo se qualcosa di epico ci riusciamo a farlo. Ci devono risturbare tutto al giorno. Risturbare? Risturbare, ok? Mi non mi prende in giro. Ok, una nuova parola, sì. Mi vuoi bulletizzare perché dico risturbare? Sì, perché dal nervoso non sai più neanche parlare. Vai, sei pronto? Ci sei, vai. Ci sono? Volo! Oh, mio Dio! Ha funzionato. Allora, adesso... Ho avuto porre che esplodessi, ti giuro. Ho avuto davvero, davvero paura. Almeno questo funziona. Devo riprovare però impennando. Ok. Una ruota per Steph. Vado. Lo mi sei venito. Mi giro e ti vedo rotolare in aria. No, vabbè. Guarda, allora, questo veicolo è anche un po' inutile. Però si è utilizzato come rampa. La cosa migliore del mondo. Però c'è un veicolo fatto apposta per essere usato come rampa. Quindi neanche in quella è il migliore. Allora, dove sei? Io non vorrei offenderti. Dove sei? Fere, no, Fere, Fere. Fere. Fere, stai calma. Seguimi. Vieni. Fere! Vieni qua. Cosa vuoi fare? Proviamo a saltare sopra questa maze bank. Ti metti qui, a questa altezza, però girata al contrario. Eh, eh, sì, vabbè. Secondo te quei lampioni come faccio a fare una manovra del genere? Piano, piano, su, forza. Fai da brava. Fere, arrivo. Dai. Mamma mia. Mamma mia. Però sei andato molto in alto e hai raggiunto il logo. Allora, riproviamo. Uh. Guarda che, secondo me, è fattibilino. C'eri quasi, però, eh. È fattibilino. Lì nel lato, no? Nella parte più alta, ma in quella che rimane un po' più bassa. Allora, aspetta che guardo meglio con la telecamera. Allora, ah, sì. Ah, sì. Adesso provo. C'eri? Cioè, la ruota, secondo me, era molto vicina. Eh, sei l'unico difetto che per prendere la rincorsa devo fare tutto un giro strano. E quindi mi viene male. E certo. Se avessi una rincorsa un po' più ampia, secondo me ce la farei alla grande. Secondo me se si mette il veicolo in obliquo. Vado? No, aspetta, vabbè, ormai ci sei. Volevo metterlo. Sei morto? Sì. Volevo metterlo in obliquo in modo tale che la tua. Proviamo, 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 proviamo. Ok. Allora. Io non so neanche se lo posso muovere. Eh, ma sta moto fa schifo. Penso si è esploso, non vorrei dire. Dici? Eh sì, non ci posso neanche salire, infatti. Vuole vedere un po' distante con Steph? No, grazie. Mi sto esercitando piano piano. Sono ancora alle basi, più basi, più basi. Molto interessante. Però so fare delle cose belle, vuoi vedere? Sarà utilissima, vai. Allora, una rampa. Mentre ci ho pensato io alla polizia, come sempre. Vedi qualche rampa? Eh, no, ovviamente. Eh, allora non ti posso far vedere le mie dolce. Eh, ma tu lo dovresti sapere, non sei l'esperto stunt che si allena e che sa dove sono tutte le cose. Eh, no, sono soltanto falle, capito? Non so ancora le location, non sono molto esperto. Allora, ti faccio vedere uno stunt bellissimo e poi andiamo col treno. Ok. Però non ti garantisco nulla perché il tuo peso mi sbilancia. Per un professional stunt questi sono difficolti importanti. No, non credo che c'entri molto. Comunque vai. Sì. Guarda, eh. Guarda che meraviglia che ti faccio adesso. Pronta? Uuuuuh. Eeeh. Cos'era? No, lasciami la moto. Ti prego. Ah, sto salita al volo. Ma no! Vai, andiamo a cercare un treno, va. Ma ne volevo andare senza di te perché sei stato davvero imbarazzante. Imbarazzante e ridicolo. Ma a che stante non ho tre gradini messi in croce che neanche sei riuscito a fare. Cioè, davvero. Ma io perché ti ascolto? Quando non registriamo, sono molto più bravo. Ti giuro, stavo... Certo. Certo, adesso vuoi dare la scusa che quando nessuno ti vede tu sei più bravo. Esatto, esatto. Ma quando mai? Esatto, è proprio così. Sei scarso quando non registri anche quando registri, guarda. Allora, sono fenomenale. Sei bugiardo. Sono un fenomeno. Fermati. Bugiardo. Fermati. Fermati. No, non mi fermo. Non ho voglia, sto andando a fare le cose serie nel treno. Non ti do per resta. Perché sai che la so fare in realtà. Ecco perché non ti fermi. No, non lo sai fare. Hai dimostrato pienamente che non lo sai fare, quindi basta. Io rimentro, chiamo alla mia assicurazione perché rivolgo le mie moto, così ti farò vedere come si vuole in giro, ok? Non interessa a nessuno, te lo dico, non interessa a tutti. Allora, Clubhouse, la Nightblade. Fede, ho trovato il treno. Eh, lo vedo, non è che è invisibile. Fede l'ha trovato. Lo vedo qui vicino. Allora, ci tocca superarlo. Guarda che bravo. Sì, sì. Hai visto? Stavi solo sbagliando. No, no. Allora, io ho capito che lo dobbiamo superare, ma come fai nel frattempo? Esatto. A chiamare il veicolo, posizionarlo e riuscire a combinare qualcosa? Cioè, mi sembra un po', capito? Allora, superiamo la galleria. E teoricamente siamo talmente più avanti del treno? No, non sei così tanto avanti. Se guardi indietro non sei così tanto avanti. Davvero? Eh sì, è abbastanza vicino. Quindi non vai troppo più veloce. Quindi è un po' un problema. Dannazione. Però guarda che volo ti faccio fare. Guarda che volo. No, grazie. Guarda che poi cadiamo di sotto e muori. Quindi smettila. Nessuno morirà quest'oggi. Ci ucciderà il treno. Veloce, Phantom. Ci ucciderà il treno, io lo so. Eccolo, eccolo, è qua sopra. Aspetta. Ok. Ok. Veloce. Veloce, Ferre. Non ce la faremo mai. Veloce, Ferre. Vai, vai, vai. Prendilo tu, non mi interessa. Vai, vai, vai. Andiamo in due, andiamo in due. Sali, 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 sali. Vai, vai. Ci sono, ci sono, ci sono. Se non perdiamo il treno. Ok. Aiuto. Ok. Ok. Fermi o gli andiamo addosso? Gli andiamo addosso, dai. Proviamo ad andargli addosso. Allora, devo scappare. Perché mi serve anche il tempo per girare. Non lo so. Andiamo contro il treno. Non lo vedo più, il problema è il treno. Il treno è visibile. Velocissimi. Ma scusate, là dietro di noi. Il treno che non c'è. Oggi va tutto storto. Allora, se oggi ci scompare anche il treno. Ma continuiamo a parlare. No, io non registro più video, te lo dico. Perché se ci scompare anche il treno. Ah, eccolo. Eccolo. 3, 2, 1. Ma porca miseria. Ok. Ok qua. Sbalzarci. Ma addirittura farci esplodere. Io ho detto. Adesso si schianta malissimo. Ma proprio c'è. Senza neanche il ritegno ti fa esplodere. Della serie. Non ci provare mai più. Non hai un minimo. Come ti sei permesso, secondo me. Esatto. Non hai un minimo di possibilità. Cosa credevi di fare, brutto insulso, Phantom? E io ti faccio esplodere. Questo è stato il pensiero del treno. Perché l'ho sentito. È stato malissimo. Poverino. Qua il nostro veicolo è tutto bruciacchiato. Che tristezza. Non è andata bene una oggi. Allora. Quindi abbiamo scoperto che possiamo acchiappare il Phantom. È davvero difficile far sbalzare dei veicoli tramite l'elicottero. Però secondo me è fattibile. Ok. Ci tengo a dirlo. Non si può far partire un aeroplano dal Phantom Wedge. Che sai, non mi sorprende. In effetti. Non è la sua funzione quella. Ed è un'ottima rampa per le moto. Quindi può permettere a Steph di fare grandissimi stunt da capogiro. Io non so perché. Adesso ti sei fissato con lo stunt. Perché ti sono venute queste idee. Amica. È il mio nuovo talento. No, non siamo amici. Non ti permettere. In tutti gli episodi verrai Steph lo stuntman. Ok. L'emozione più forte di oggi. Ok. L'avrirai grazie a Steph. Pronta? Sì, perché tutto il resto ha fatto schifo. Quindi non è che è molto difficile. Andiamo. Guarda. Guarda il momento. È il momento. Ok. L'ho vista adesso. È un cumulo di sabbia però. Oh, yes. Ecco. Emozioni forti? Fortissime. Sì, guarda. Non mi sembra sentita così. Hai il batticuore? In vita mia si sto tremando. Guarda. Sì, guarda. Guarda di come sto tremando dall'emozione. Ma calma. Non ci riesco. Fai un respiro. Tremmo ancora di più. È troppo forte questa emozione. Guarda. Non l'ho mai vista fare così. Così tanto. Meno male. Quindi sì. Meno male che ti piace. Sono felice. Che non mi inticherò mai. Ok. Comunque. Ci fermiamo così perché questo si può fare. È stato un fallimento totale. Ma dovete capirci. Questi giorni siamo un pochettino da sopportare. Non stiamo bene. Mentalmente. Non siamo al nostro massimo della forza. Quindi dovete sopportarci questi giorni. Ci fermiamo così. Ovviamente proponeteci altre cose da provare col Phantom Wedge. Possibilmente un po' più belle di quelle che abbiamo provato noi. Sì. Ti superano i consolini in questo. Mi dispiace. Mi dispiace. No sì sì. Le mie sono un po'... Dai. Erano interessanti. Erano interessanti. Però poi finiscono male. Capito? Praticamente sono state interessanti a livello di ideale. Ma nel momento in cui le provi sono diventate un po' meh. Capito? Sono d'accordo. Però sei tu un meh. Io non sono un meh. Ok. Comunque ci fermiamo così per questo video. Facciamo un ultimo stante per l'altro. E ci fermiamo. Uuuu. Per ragazzi. Se vi esce così. Se vi è giocato. Sentici un like. E se è la prima volta che vi ho avuto il nostro video. Potete considerare l'idea di iscrivervi. Per non perdermi gli altri episodi. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.